La soluzione non è quella di andare a salvare le persone in mare, queste persone non devono attraversare il mare, queste persone non devono mettere neanche un piede nel mare e io sono certo che le ONG che operano in questo senso sarebbero contente di non essere là ad assistere a tutti quei naufragi a salvare perché quelle persone devono arrivare attraverso i canali regolari. No només no volem sortir al mar sinó que nosaltres treballem des de la lògica, des del paradigma de les vies legals i segures. La gent es tira al mar, la gent utilitza màfies, la gent entra en xarxes d'explotació sexual, la gent ven els seus òrgans, la gent es separa de les seves famílies perquè no té una alternativa, perquè no hi ha vies legals i segures per arribar a Europa. Grazie. 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 Grazie.